vano di poppa con ampio prendisole togliendo il cuscino viene tutto prendisole si può guidare solo appoggiandosi come poggiareni pannello interruttori con luce di accensione presa 12 volt bussola illuminata logicamente pannello per installare tutti gli strumenti ampia console con ampio tentibeni in acciaio linux ampie tasche a sinistra luce di via luce di fonda carico per l'acqua la tasca laterale sinistra nella parte anteriore abbiamo logicamente un grande cuscineria seduta anche per il passeggero nella console gambo tavolo in acciaio inox tavolino da picnic con relativo cuscino abbassandolo diventa praticamente tutto un piano calpestivo musone di prua di serie vano per l'ancora e questa è la parte interna dell'imbarcazione logicamente luci di via pompa di centina l'abbiamo vista sull'altro video nel vano posteriore logicamente c'è un vano anche anteriore molto ma molto ampio che si accede togliendo il cuscino ok adessoonden più che via 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 Grazie a tutti.